Bentornati! Allora oggi parliamo di una delle cose più invidiate, più ricercate e più misteriose della musica. Oggi parliamo dell'orecchio assoluto. Allora, che cos'è l'orecchio assoluto? Se voi mi facesse ascoltare questa nota... Io vi posso dire che questa nota è un Mi bemolle. Ora, come faccio a sapere che questa nota è un Mi bemolle? E' molto semplice, l'ho suonata io sul pianoforte pochi minuti fa e quindi mi è rimasto in testa. Ma se voi mi avessi chiesto dal nulla che nota è questa qua, io non avrei saputo darvi una risposta corretta. Magari ci sarei andato vicino, ma comunque avrei potuto facilmente sbagliare e comunque non avrei avuto la certezza che questa nota sia effettivamente un Mi bemolle. Invece un musicista con l'orecchio assoluto è in grado di dirvi che questa nota è un Mi bemolle, in maniera certa e inequivocabile. Allora, in realtà l'orecchio assoluto non è così raro. L'orecchio assoluto dipende da una particolare caratteristica del DNA e che è presente nel 30% della popolazione. Quindi un terzo della popolazione ha alla nascita la potenzialità di avere l'orecchio assoluto. Quindi tanti comunque fondamentalmente. Solo che poi questa capacità si perde se non viene esercitato, cioè se non si studia musica fin dall'età prescolare. Per cui ovviamente di questo 30% della popolazione mondiale solo una minima parte studierà musica e quindi solo quella minima parte e neanche tutta conserverà la possibilità dell'orecchio assoluto. A mio figlio, ad esempio, che ho fatto iniziare a studiare musica molto presto, che aveva praticamente 4 anni, comunque non ha l'orecchio assoluto e quindi tale padre, tale figlio. E in tutto ciò c'è una componente, in certi casi anche genetica, però mio nonno ce l'aveva, mio cugino ce l'ha e io non ce l'ho. E insomma, è andata così. Detto questo, questa regola è una regola generale, ma non è una regola assoluta. Bernstein iniziò a studiare musica a 10 anni, quindi un'età si presta, ma non prestissimo insomma, ecco. E comunque aveva l'orecchio assoluto, quindi anche se aveva iniziato a studiare a 10 anni e non a 3 anni o a 4 anni, l'ha mantenuto. Per cui, insomma, queste, come dire, queste regole che vi do, prendetele come regole generali e non come delle verità scese dal cielo. Anche perché la scienza stessa sta ancora ben studiando il fenomeno. Ora, quel bimolle che abbiamo ascoltato all'inizio, nella mia testa risuona e risuonerà per un certo periodo di tempo, diciamo qualche decenni di minuti, un'ora, forse due ore. Dopodiché, quella nota scomparirà dalla mia testa, per cui se nel momento in cui io, diciamo così, l'ho dimenticata, voi mi chiedete di ricantarla e potrei avere delle difficoltà a farlo. Oppure potrei cantare una nota magari che è vicina, magari un minaturale, che comunque è sbagliato, evidentemente. Anche se siete musicisti capite quindi che importanza ha, nello studio della musica, avere o non avere questa capacità. Qualcuno ha detto che non avere l'orecchio assoluto è come dipingere un quadro senza vedere i colori. Io non sono assolutamente d'accordo con questa definizione, anche perché la storia della musica è piena di grandissimi musicisti che non avevano e che non hanno l'orecchio assoluto, quindi non è assolutamente una condizione che non è. Però è indubbio che sia un vantaggio competitivo, soprattutto in partenza, enorme. Io ho sempre un'invidia clamorosa verso quei pianisti, sia classici che jazz, che sentono una cosa e pam, e mettono giù l'accordo al volo di quello che hanno ascoltato. Però, come dire, è un dono di natura, ecco, non è un merito. Anzi, il merito è di chi questo dono non ce l'ha e si fa, come dire, un mazzo quadro studiando e cercando di riconoscere le note. Perché anche chi non ha l'orecchio assoluto può riconoscere le note, evidentemente. Guai, se non fosse così, allora uno non potrebbe fare il dietro dell'orchestra o non potrebbe fare anche banalmente l'orchestrale o non potrebbe suonare uno strumento, insomma, ovviamente non è l'unica maniera in cui le note si possono riconoscere. Diciamo che chi non ha l'orecchio assoluto fa un'aggregazione tonale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che conoscendo come è strutturato un accordo, quando sente un accordo, non avendo l'orecchio assoluto, non sa se quell'accordo che ha ascoltato è un mi bemolle maggiore o un la maggiore o un do maggiore, però sa che rapporto c'è fra le note. Per cui sa distinguere immediatamente da quell'accordo quelle che sono le tre note fondamentali che compongono un accordo. Adesso non sto a dire quali sono, non vi interessano, però sappiate che in un accordo ci sono tre note. Una volta che tu, ascoltando l'accordo, sei in grado di individuare qual è la funzione, non che note sono in assoluto, ma qual è la funzione che quelle note hanno nell'accordo, ne hai già tre su sette pronte e le altre impari a ricavarle. Anche le note alternate poi col tempo e con l'esercizio si impara a riconoscerle. La differenza è che questo procedimento che nella testa di chi non ha l'orecchio assoluto può richiedere magari qualche secondo, in certi casi anche un pochettino di più, o in certi casi anche un pochettino di meno, in chi ha l'orecchio assoluto viene preso al volo e senza sbagliare. Quindi chi non ha l'orecchio assoluto ha in genere un orecchio relativo, cioè stante una nota di partenza e dato all'orecchio come dire un settaggio, il classico che voi vedete quando si usa il diapason, per cui si batte il diapason, si ascolta il la e come dire, quella nota dice al tuo cervello, non diversamente da come è successo al mio quando ho suonato quel mi bemolle per fare questo esercizio, in quel caso invece la nota è un la e dice al tuo cervello questa nota è un la, regolati tu a trovare tutte le altre, che si impara studiando musica, banalmente si impara come fare, insomma non è niente di strano o di misterioso, è semplicemente una cosa che si può imparare. Però attenzione che anche nell'avere l'orecchio assoluto ci sono vari gradi di, come dire, di abilità, cioè non tutti quelli che hanno l'orecchio assoluto sanno fare le stesse cose e ascoltare le stesse cose in la stessa maniera, la cosa più facile che sa fare chi ha l'orecchio assoluto è riconoscere una singola nota e nella maggior parte dei casi cantarla dal niente, quindi senza punti di riferimento, anche se ci sono dei casi un po' via di mezzo, io per esempio avevo un amico, un collega musicista, che aveva l'orecchio assoluto ma dal nulla non sapeva, se ti dicevi cantami un la bemolle, lui non sapeva cantarti la bemolle, però se ascoltava qualunque pezzo musicale, riconosceva quella tonalità e da quella tonalità ricavava il la bemolle che gli era stato richiesto, per cui insomma questa è una cosa ancora una via di mezzo. Però ripeto, non tutti quelli che hanno l'orecchio assoluto sanno distinguere anche un accordo molto 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 complesso, io ricordo che in conservatorio con qualche compagno che aveva l'orecchio assoluto a volte si faceva il classico esercizio, mettevi giù la mano a caso un po' forte schiacciando un sacco di tassi, facendo quello che si chiama un cluster, e gli diceva che note sono queste qua? E lui diceva ma allora sento un la, sento un si bemolle, sento un la bemolle, sento un mi bemolle, ma non era detto che le prendesse tutte, magari erano 7, 8, 9, 10, che le prendesse tutte, le prendeva la maggior parte. In questo senso il caso di orecchio assoluto più straordinario che io abbia visto in vita mia è stato quello del figlio di Rick Beato. Rick Beato, per chi non lo sapesse, è un musicista produttore youtuber con quasi 4 milioni di iscritti nel suo canale, che fa dei video molto molto interessanti, vi invito sicuramente ad andare a dare una sbricciata al suo canale. Suo figlio Dylan, che adesso avrà una dozzina d'anni più o meno, e che è stato cresciuto da lui, lui non ha l'orecchio assoluto, ma ha cresciuto suo figlio secondo un sistema che si è in un certo senso inventato lui. Suo figlio Dylan ha l'orecchio più incredibile che io abbia mai visto. Andate a cercare su YouTube Dylan Beato, Beato, lo dicono Beato, Dylan Beato, comunque in italiano Beato, e guardate cosa faceva questo ragazzino, questo bambino quando aveva 6-7 anni, aveva una capacità, non di conoscere singole notte o queste facce, ma di conoscere degli accordi di una complessità mostruosa, poli accordi, cluster di cui prendeva tutto, oppure mentre c'è un cluster si chiedeva di cantare una nota completamente al di fuori di quel cluster e lui la cantava immediatamente, la cosa strepitosa. Poi magari Dylan, non so se nella vita farà un musicista o farà l'ingegnere o l'idraulico o qualunque altro lavoro in cui il fatto che abbia questo orecchio incredibile che se facessi il direttore d'orchestra gli sarebbe incredibilmente di aiuto, poi boh, non so cosa si farà nella vita Dylan. Io spero che faccia un musicista o forse è meglio di no, con troppa concorrenza. Quindi capite ovviamente qual è il vantaggio competitivo di un musicista, in particolare un direttore d'orchestra, perché il musicista suona il suo strumento e quindi, come dire, arriva immediatamente alla nota che gli interessa e il direttore d'orchestra suona l'orchestra, quindi non ha un tasto fisico da suonare e capite quindi l'importanza di prendere al volo tutto quello che l'orchestra suona. Capite che non è un vantaggio da poco. Altra cosa, non da poco, è la velocità che si impiega per imparare un pezzo, per cantare un pezzo che si vede davanti, cioè qualunque musicista con davanti un pezzo di musica lo legge. Con vari gradi di velocità nel fare questa cosa, che non è, ripeto, che se non hai l'orchestra assoluta lo puoi fare, si studia e si impara con come leggere la musica, cioè teori sul feggio è uno dei primi esami che si fa nel corso di conservatorio, però è chiaro che se hai l'orchestra assoluta ti viene tutto immediatamente facile. E se sei un compositore hai la possibilità ovviamente di scrivere la tua musica senza l'uso di un pianoforte o di qualunque strumento, perché la musica ce l'hai in testa. E quindi è indispensabile? Assolutamente no. Riccardo Muti, uno dei più grandi direttori d'orchestra che abbiamo, non ha l'orchestra assoluta, eppure voglio dire, credo che nessuno possa mettere in discussione nella carriera che ha fatto, nella sua importanza in questa professione. Quindi solo solo vantaggi, diciamo che avere l'orchestra assoluto ha sicuramente molti più vantaggi che svantaggi, però ha anche una serie di svantaggi, secondo me, secondari, ma che ci sono. L'orchestra assoluto intanto è settato sull'A440, se non l'avete visto, vi lascio alla fine del video, in descrizione, il link al video sulla corratura 440 contro la 432. E per uno che ha l'orecchio assoluto, adesso non sto a raccontarvi cos'è il temperamento equabile che in questa fase non vi interessa, però diciamo che per un musicista che ha l'orecchio assoluto, suonare con un l'A diverso da 440, magari 432, 423, a 415 come si fa in certi casi, è decisamente spiazzante e comporta un grosso fastidio e una grossa difficoltà a seguire la musica. Mentre per chi non ha l'orecchio assoluto è molto semplice perché si ascolta il l'A che si è deciso di utilizzare, anche a 415, quindi bassissimo, il tuo cervello si setta su quel l'A e quindi prenderà tutte le note in rapporto a quel l'A molto basso che si è deciso di settare perché per suonare quel pezzo si è deciso di fare il l'A più basso. Altro problema che molte volte hanno soprattutto i cantanti con l'orecchio assoluto è quando devono trasportare in un'altra tonalità perché loro quel brano ce l'hanno in testa in quella maniera e trasportarlo, mentre per me o per chiunque non ha l'orecchio assoluto trasportare un brano è semplicissimo, è normalissimo. Tu mi dai il primo accordo e io tanti auguri a te te lo canto nella tonalità che vuoi in base all'accordo che mi hai dato. Lo posso fare in do, se mi do do maggiore te lo cantare in do maggiore, mi dai un mi bemolle maggiore, te lo cantare in mi bemolle maggiore, in si bemolle in qualunque altra tonalità. Per chi, soprattutto cantanti all'orecchio assoluto e quindi quel brano e non tanto tanto auguri a te, insomma che è stato un esempio abbastanza banalotto, ma diciamo per esempio un'aria d'opera ce l'ha in testa in una certa maniera, per lui o per lei quell'aria corrisponde a quei suoni, per cui se gli sti dice guarda dobbiamo trasportarla un semitono sotto e questa cosa la potrà fare ma non senza difficoltà e non senza fastidio. Non abbiamo la certezza perché non li abbiamo incontrati, ma da quello che, dagli iscritti che abbiamo trovato, da una serie di testimonianze abbiamo sicuramente l'orecchio assoluto, Mozart, Beethoven e Bach, più Mendelssohn anche sicuramente. E in tempi più recenti cantanti importanti pop come Michael Jackson, Maria Carey, Céline Dionne, Barbra Streisand, Frank Sinatra, avevano l'orecchio assoluto. Non è detto necessariamente che questa cosa abbia, come dire, avuto una funzione particolare nel successo che hanno avuto, però insomma sicuramente semplifica tante, tante, tante cose. E tantissimi musicisti jazz, Miles Davis, ma io stesso ne conosco tantissimi di musicisti con l'orecchio assoluto. Quindi non è una cosa alla fin fine così rara e così misteriosa come a volte la si vuole far passare. E tra i direttori ce l'aveva Toscani, ce l'aveva Ferrara, ce l'aveva Barenboim, ce l'aveva come detto Bernstein, anche se col passare dell'età, soprattutto in età avanzata, spesso capita che l'orecchio assoluto non si perda, ma diventi meno accurato. Io stesso ho visto direttori anziani, che sapevo perfettamente che avevano l'orecchio assoluto, confondere dei Mi con dei Mi bemolle, perché sembra che col passare dell'età questo dono, diciamo così, diventi meno accurato. Non diranno mai che un Mi bemolle è un La bemolle, ma magari possono sbagliare di un semitono. Questo ho visto più di una volta che può succedere. Detto questo e avviandoci la conclusione, è sicuramente un dono di natura, perché se sei in quel 30% della popolazione e se hai studiato musica e se l'hai fatto fin da piccolo, probabilmente ti resterà l'orecchio assoluto, se no, probabilmente no. Detto questo, si può imparare da grandi, ci sono tantissime teorie su questo argomento. Io ricordo che da ragazzo avrei dato un rene per averlo l'orecchio assoluto, dopodiché impari comunque a fare il tuo lavoro e non è che di per sé l'orecchio assoluto sia una garanzia di una carriera di successo. Conosco anche tantissimi musicisti con l'orecchio assoluto che non hanno fatto una carriera particolarmente folgorante o particolarmente gloriosa, insomma, qualcuno addirittura non ha fatto nessuna carriera. Quindi di per sé, come dire, è un bel punto di partenza, un grande punto di partenza, come dire, se vuoi giocare a pallacarezza e sei alto un metro e dieci, è un gran bel aiuto, non vuol dire di per sé diventerai un grande giocatore di basket dell'NBA, insomma, ecco. Quindi tanti hanno fatto e previsto e in molti casi venduto dei corsi per sviluppare l'orecchio assoluto in età adulta. Io li ho fatti più o meno tutti e non ha funzionato nessuno. Poi non so se non ha funzionato con me perché sono di coccio e magari con qualcun altro ha funzionato, però insomma sta di fatto che io non conosco una persona che mi abbia detto guardi io non avevo l'orecchio assoluto, ho fatto questo corso e l'orecchio assoluto mi è venuto e adesso ho l'orecchio assoluta. Io un caso del genere. Se siete tra questi scrivetelo nei commenti e ditemi come avete fatto che sono ancora interessato ad apprendere. Detto questo ci sono tante tecniche di studio, in particolare di training o comunque tutta una serie di tecniche che servono a sviluppare l'orecchio relativo che come ho detto in certi casi può essere perfino più utile dell'orecchio assoluto. E comunque come tutte le cose della musica non ha niente di misterioso ma basta studiare tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto e insomma l'orecchio come tutte le altre cose si sviluppa e si educa. Quindi anche se non avete l'orecchio assoluto potete fare tranquillamente la professione musicista. Bene, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, se avete piacere da qualche tempo c'è anche la possibilità di abbonarsi per avere dei contenuti extra, scrivetemi naturalmente nei commenti cosa ne pensate dell'orecchio assoluto se magari voi ce l'avete o se conoscete qualcuno che ce l'ha e secondo voi quale vantaggio competitivo ha un musicista che ha l'orecchio assoluto rispetto a chi non ce l'ha. E noi ci vediamo al prossimo video, non mancate!